Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi? Sì o sì, signore! Ah, che cazzo non vi sento! Rispondete come se ne avesse davvero! Sì o sì, signore! Se voi signorine finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma, sarete dispensatori di morte e pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputto, la più bassa forma di vita che ci sia nel globo. Non siete neanche fattuti esseri umani, sarete solo pezzi in formi di materia organica antivia comunemente del Tabarda. La prima e l'ultima parola che ci sia nel globo. La prima e l'ultima parola che ci sia nel globo. La prima e l'ultima parola che ci sia nel globo. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti